Le donne vincono sempre perché non ti daranno mai una risposta. Le donne fanno solo domande. L'altro giorno è venuto in mia figlia e mi fa senti, visto che sei senza fare niente, mi fai una cortesia. Mi vai a prendere Marco a scuola, Laura a danza e visto che ci sei mi prendi anche il cappotto in tintoriero. Ma non era una di cortesia. Papà, io devo fare la domanda per la messa scolastica di Marco. I buoni libri per Laura. E poi il piccolino a notte non mi fa dormire. E allora chiedi anche l'assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli. Quindi devi fare l'ISE. Sì, a chi lo chiedo? Ma come? A chi lo sa? Chiedi l'Alcafuil. Aspetta a non fare niente. Scrivete la macchina. Ok. A presto.